E' senza dubbio importante questo incontro tra i segretari generali delle conferenze episcopali europee perché ci si aiuta reciprocamente a leggere in maniera meno localistica i temi e anche perché si mettono in comune eventuali soluzioni, eventuali vie di uscita da certi problemi particolari. Però quello che a me ha colpito di più è una lettura positiva, positiva di quello che ancora può fare la Chiesa, di quello che la Chiesa può fare in termini proprio di promozione umana, in termini di presentazione all'Evangelio, in termini di testimonianza della Chiesa. Quindi un modo per continuare a camminare e sentirci responsabili guidati da Papa Francesco verso un annunzio, una testimonianza dell'Evangelio della Gioia.